Robo González, entri e segni e fai divertire, ma dove sei stato tutti questi anni? Perché sei esploso la Novara? Fai il calcio meraviglia, non è per essere ruffiano, però quando entri tu è divertentissimo. Dov'eri in questi anni? In Argentina, con la mia famiglia, mi mancava un po', però credo che Novara fa divertire, quando gioca tranquillo, sereno, al calcio, lo fa la grande, credo che questa è la realtà. Facciamo una scommessa, quanti gol può segnare quest'anno González con la Z finale? Speriamo che più dell'anno scorso. Arriviamo in doppia cifra? Speriamo, sì, speriamo di arrivare a doppia cifra o di più, però va bene, tranquillo. Paolo, qual è il segreto di questo gruppo? In campo vi vediamo super uniti, i panchinari sono i primi a entrare in campo e festeggiare i titolari e viceversa, vi cercate molto. Qual è il segreto di questa squadra? Il segreto è lavorare insieme e fare sempre insieme. Facciamo gli elementi insieme, lavoriamo insieme e credo che questo è l'unico segreto che abbiamo noi, sappiamo che quando gioca un compagno è perché sta meglio di noi o perché il mister lo dice. Noi dobbiamo avere la fiducia come non tocca giocare a noi. Credo che la squadra è unita e lo farà sempre. Ora ci aspetta Varese, noi non dobbiamo temere nessuno, giusto? No, credo che Novara non ci fa una di nessuno come nessuno, sicuramente c'è la paura di Novara. Credo che è un calcio difficile, siamo tutti squadre importanti e dobbiamo lavorare tranquillo, sereno e giocarla. Per le tue caratteristiche, preferisci giocare in un campionato come la Serie B o come l'anno scorso in C1? Pablo Gonzales, dove si sta divertendo di più? La Serie B è nuova e così mi diverto sempre perché tutta la giornata è qualcosa nuova. Per me è tutto nuovo, così per me preferisco la Serie B, credo che tutta Novara preferisca la Serie B. Ma tu invece in campo che differenze trovi? Trovi più spazi quest'anno? Trovi meno falli? Cosa trova Pablo Gonzales in campo? Che differenze trova? Trova degli avversari che comunque lasciano più spazio oppure viceversa? Credo che se fa un calcio più bello, un calcio più vistoso, magari in Serie B se viene un giocatore di tanta qualità e tanta importanza che hanno fatto tanti anni in Serie B, Serie A e credo che questo lo fa un calcio più bello. Il Piole è bello da vedere così, i tifosi sono al vostro fianco, siete soddisfatti? Sì, siamo contenti, speriamo che i tifosi accompagni come è stato a stavolta, a oggi, continuare a lavorare così loro sono contenti e anche noi. La squadra e lo staff tengono i piedi per terra, i tifosi però li lasciamo sognare, possono, penso che abbiano tutto il diritto. Sì, è difficile farlo non sognare un tifosi, credo che tutti abbiamo una squadra e siamo tifosi e vogliamo sognare, però noi credo che la squadra, il staff, la società sappiamo che è una difficoltà e lunga, dobbiamo mettere i piedi a terra e stare tranquilli. Grazie.